La cosa che mancherà sarà sentire quello che abbiamo sentito poco fa, cioè il pianto di un bambino che veramente ancora ci emoziona dopo tanti anni. La dottoressa Daniela Mazzetti, dirigente medico presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Bibbiena, non nasconde la sua emozione per quanto sta per accadere nel presidio. Il punto nascita di Bibbiena dal primo giugno chiude e quella che era una vera eccellenza viene depennata. Colpa dei numeri, gli standard sanitari impongono 500 parti all'anno, qui se ne fanno circa 170. Il numero di parti sta diminuendo, qui siamo in una zona piccola, anche a fare attrazione come negli anni precedenti abbiamo cercato di fare, più di un tot di parti non possiamo recuperarli. Manca la neonatologia, non è pensabile comunque di mettere anche un reparto di neonatologia qui, secondo me, perché anche l'espertise poi degli operatori viene a mancare, perché l'espertise lo fanno i numeri. E per il Crest, che riunisce i 14 comitati civici toscani per la difesa della sanità e della salute nelle zone montane, non solo questa decisione poteva essere evitata, ma non c'è stata concertazione con i cittadini. Non si mette in dubbio la necessità di avere una maternità funzionale come ha funzionato fino all'altro giorno, perché se questo era un gioiello fino a due anni fa, un anno fa, non può essere diventato pericoloso tutto insieme, vuol dire che si è operato per arrivare a questo punto. Il sindaco di Bibiena, pur non essendo felice di questa decisione, sostiene di aver potenziato con il patto appena sottoscritto alcuni servizi. L'emergenza urgenza, visto il territorio come messo, è anche la salvaguardia delle cronicità, degli anziani e quindi altri aspetti sanitari che noi in questo patto abbiamo tutelato. Definisce invece fuori luogo la richiesta del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli di rivedere questa decisione. Non può permettersi di commissariare i sindaci, la conferenza dei sindaci del Casentino. Erano già mesi e mesi che si parlava, se ne parlava sulla stampa e fino allora non mi risulta che la conferenza provinciale si fosse preoccupata di questo. Nell'ospedale di Bibiena rimarrà comunque la presa in carico della puerpera prima e dopo il parto. Proprio dal test di gravidanza positivo fino alla preparazione della cartella ostetrica degli ultimi giorni proprio di gravidanza, poco prima dell'inizio del travaglio. Al momento in cui il travaglio inizia la paziente dovrà andare ad Arezzo. Per ritornare qua, diciamo anche per l'assistenza, per il neonato eccetera, dove sarà accolta sia in ospedale per quello che è necessario, perché sono stati programmati dei controlli a breve scadenza insomma dalla nascita e successivamente anche a domicilio, perché c'è un servizio territoriale importante che già sta facendo questo lavoro da qualche anno e quindi sono preparate e pronte per qualsiasi tipo di necessità.